Elezione tra loro questa, i prossimi infatti sono il muro della Raffaele, anche loro elementi essenziali della studeria, pronti per partire con il numero 732. Sette, tre, uno, partiti. Sette, tre, uno, partiamo, Radella e Raffaele con numero 732, anche loro della studeria, pronti. Sì, un doppio, Dario Tallarico, c'è quello di Martelletto, è anche il figlio del Martelletto. Sette, tre, uno, partiti. Sette, tre, uno, partiti. Sette, tre, uno, partiti. Sì, non si vedi? Sì, non si vedi? Non si vedi? Non si vedi? Sì, non si vedi? Sì, non si vedi? Mamma mia! Ma questa è una carina! Nel duo Talarico Lanteri con il numero 731 Settingiano Spitan Project Adminatevi alla linea di partenza categoria N5K ... ... ... ... ... ... ... Lo voglio io! Arriva, arriva, arriva! Sta a salvare la peta, sta a salvare Il l'agra la donna Il l'agra la gioca Il l'agra la concession reso Il interro l'agra